Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il Regno dei Cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovato una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e lo compra. Ancora il Regno dei Cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesce. Quando è piena i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli dissero, sì. Ed egli disse loro, per questo ogni scriva, divenuto discepolo del Regno dei Cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Anche il Vangelo di questa domenica, quasi in continuazione dal Vangelo della domenica scorsa che abbiamo cercato di condividere insieme la volta scorsa, ci parla di un tesoro. È il tesoro per il quale uno vende tutto e compra quel tesoro. Allora mi sembra che ancora una volta la liturgia ci chieda di chiederci qual è il tesoro che noi custodiamo. Che cosa sono per noi le cose che valgono? Quali sono i tesori per cui diamo la vita? In questa situazione di grande contingenza è facile dimenticare le cose che vanno al di là. Perché siamo presi dal contingente, siamo presi dai soldi che mancano, dalla vita che aumenta, dal lavoro che perdiamo, delle casse di integrazione e facciamo fatica a capire che il primo e più grande tesoro è il Signore che abita il nostro cuore. È importante, cari amici, che ogni tanto ci poniamo questa domanda. Perché se avete ascoltato, il Vangelo ci parla di una rete dove ci sono i pesci buoni e i pesci cattivi. E Gesù dice, verranno gli angeli e separeranno i buoni dai cattivi e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Noi sappiamo che il Vangelo è molto chiaro perché Gesù ci dice, non vi chiedo di fare miracoli, ma vi chiedo di vivere quello che io vi ho insegnato. E allora quale sarà la cartina di tornasole dei nostri pesci buoni e cattivi? Avevo fame, avevo sete, ero forestiero, ero pellegrino, beati poveri di spirito, beati mansueti, beati pure di cuore. Ecco, questo, questa ansia, questa tensione, questo desiderio è il tesoro che dobbiamo coltivare nel nostro cuore. È il tesoro che deve dare in là la nostra vita. Ma voi mi direte, ma chi ha tempo di pensare a queste cose con tutti i problemi che abbiamo? Amici, ricordatevi bene che la scena di questo mondo passa, passeremo noi, passeranno i nostri figli, i nostri nipoti, ma la parola di Dio dura in eterno. Noi siamo chiamati per la vita eterna, quindi veramente vi invito proprio in questa settimana a chiedervi qual è il tesoro che abita in nostro cuore. E allora vorrei che facessimo nostre le parole di Salomone, che la prima lettura ci dona di meditare. Salomone chiede a Dio, concedi al tuo servo un cuore docile, che sappia distinguere il bene dal male. E allora Dio gli dice, siccome non hai chiesto ricchezza, ti concedo un cuore saggio e intelligente. Ecco, chiediamo anche noi al Signore di donarci un cuore saggio e intelligente, un cuore buono, un cuore capace di scegliere il bene dal male, ma un cuore che ha il coraggio non solo di scegliere, ma di agire.